Adesso siamo ai numeri del contagio, sono 464 i nuovi casi con un tasso di positività del 3,4%. Calano i ricoveri sia nei riparti ordinari che nelle terapie intensive. La Sicilia sempre più vicina alla zona bianca. Maurizio Di Lucchio. Il ritorno in zona bianca si avvicina. Secondo i dati Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, uno dei tre parametri di riferimento per stabilire il livello di rischio delle regioni, ovvero l'occupazione delle terapie intensive, nell'isola è al 9% al di sotto della soglia dell'area gialla e i ricoveri ordinari sono al 15%, esattamente al limite. Intanto nelle ultime 24 ore la Sicilia scende al secondo posto in Italia per contagi dopo la Lombardia. 464 le nuove diagnosi su 13.500 tamponi processati. Tasso di positività al 3,4%. 13 i morti, anche se spiega la regione, solo tre sono di ieri, mentre gli altri risalgono a giorni precedenti. La provincia con più nuovi casi, 186, è Catania, dove due ultraottantenni, fratello e sorella, sono stati soccorsi in casa dai vigili del fuoco per un malore e sono risultati positivi al test Covid. Secondo l'ultimo report INAIL, la Sicilia è tra le regioni in cui si registrano più contagi sul lavoro. Lo scorso mese Palermo è risultata la seconda provincia d'Italia per infezioni contratte in ambito professionale e si raccusa la sesta. Intanto procede la campagna vaccinale. Nell'ennese iniziate le somministrazioni presso le farmacie e continuano le iniziative di prossimità. Domenica in programma un Open Day a Ficuzza nel Palermitano, nelle ex scuderie della Real Casina. Chi si vaccina riceve il biglietto gratis per visitare il Palazzo Reale.